Non puoi unire i punti guardando avanti. Puoi connetterli solo guardando indietro. Quindi devi credere che i punti in qualche modo si connetteranno più avanti. Credi in qualcosa. Il tuo Dio, il destino, la vita, il karma, qualunque cosa. Perché credere che i punti si connetteranno lungo la strada ti darà la fiducia nel seguire il tuo cuore, anche quando ci sembrerà normale mollare. E questo farà la differenza. Lo sai perché la maggior parte di persone non è motivata? Perché insegue sfide troppo facili. E come l'aereo decolla contro vento, tu hai bisogno di sfide da superare per sentirti vivo. Abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e la tua intuizione. Loro lo sanno già cosa vuoi diventare veramente. Non significa che sarà facile. Ma niente è forte come lo spirito umano. È impossibile spegnerlo. Tutti sono ottimisti quando hanno salute, successo e relazioni felici. È facile essere ottimisti lì. La vera sfida della crescita vera, mentale, emotiva, spirituale arriva quando sei al tappeto. Lì serve coraggio per ricominciare da capo e per non lasciar vincere la paura. La tua vita è la tua. Non regalarla a nessuno. Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina della rendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle uscite. C'è una luce da qualche parte. Forse non sarà una gran luce. Ma qualsiasi luce vince sulle tenebre. Ed è lì per illuminarti. Per illuminare la strada. Per illuminare il tuo obiettivo. Per illuminare il tuo sogno. Che se puoi vedere e avrai il coraggio di inseguire e proteggere succederà. Sarai da solo con gli dèi e il fuoco incendierà le tue giornate. La speranza sarà la lampadina delle tue notti insonne. Una chiara intenzione del nuovo dè nel futuro ti toglierà il fiato. Sei a Roma. A Roma. Roma. La culla della civiltà. La patria dell'impero romano. E di mille altre imprese. Alcune visionarie e impossibili. Altre leggendarie. Sconfiggi la morte presente dentro la tua vita. Più lo impari a fare di frequente, più luce troverai. Circondati di altri sognatori. Persone che non dormono perché hanno il fuoco dentro. Smetti di raccontare i tuoi sogni a persone piccole che si spegnono e pensano a ieri. Quando ti si presentano delle occasioni riconoscile, afferrale, scoprile entusiasmati e concentrati sui prossimi passi. C'è sempre una sorpresa per chi si concentra sul prossimo passo. Fallo! 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 Fino in fondo! Fino in fondo! Fino in fondo! Il tuo più grande successo non può essere dietro di te alle tue spalle perché il tuo destino è sopra di te e ti guarda e ti guida. Benvenuto al Vitality. Fino in fondo! Grazie a tutti.